è stato scritto dal maestro Fugo Riu che è stato il direttore della banda dell'esercito italiano lo scrisse in una occasione speciale per una cerimonia alquirinale che appunto ricordava la grande guerra è composta di varie musiche che ricordano appunto il periodo della guerra e se date un ascolto abbastanza attento sentirete che il rullo del tamburo di questa composizione ricorda molto da vicino le salve, gli spari di una mitragliatrice per cui si ricorda, fa ricordare proprio questo momento di guerra e di trincea infatti il pezzo si chiama Eti di trincea, la banda il pezzo si chiama 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 il pezzo si chiama